Parlavamo ieri del ritmo formidabile dell'Inter e di come Conte possa esserne l'unico garante in Italia avendo a quel ritmo già vinto un campionato, la Juve dei 102 punti. Se si ragiona con più prudenza, direi quasi con regolarità, è però più normale pensare che il ritmo un po' si abbasserà. In fondo si possono vincere i campionati anche a 90 punti. Se questo rallentamento accadesse rimetterebbe in corsa squadre che adesso sembrano già lontane. Penso a Roma e Lazio. Con i gol di Immobile ma anche di Correa, la Lazio nelle ultime sei partite ha ripreso quattro punti alla Juve e due all'Inter. È una di quelle squadre che negli ultimi anni si sono accontentate più di correre per la Champions che di tentare imprese. Ora la timidezza sembra finita. Per la Roma di Pellegrini e Zaniono il ragionamento è simile. Sono tutte e due i più forti tra gli avversari che Inter e Juve hanno finora trovato. Non c'è pronostico per gli sconti diretti dei prossimi due giorni. Saranno le prime vere partite decisive della stagione.